ciao a tutti amici creativi come va buon anno questo è il mio primo video del mille del 2015 sono stata fuori quindi non ho potuto girare però presto avrete nuovi video spero carini da guardare oggi ci concentreremo sull'assegnazione del primo e del secondo premio in palio ieri mi avete già scritto ma il concorso finiva la mezzanotte del 15 quindi ho preso fino a mezzanotte e quindi ho dovuto aspettare la chiusura del concorso e allora io userò sono legata ad un filo userò il computer per fare l'estrazione quindi sarà casuale e ho già preparato tutto allora procediamo con la prima con la prima vittoria sono agitata sono emozionata anche io il primo vincitore deve essere sottoscritto sottoscritto deve essere iscritto al mio canale e deve aver lasciato un commento solo ma questo lo sceglie il computer ho messo proprio calcola solamente un commento in modo che chi ne ha lasciati cinque non abbia più possibilità di chi ne ha lasciato uno in pratica ok io devo solamente schiacciare fammi vedere chi è il vincitore adesso aspetta un momento please aspetta un momento please è veloce questo sistema primo vincitore che è il vincitore della scatola elastici color stella tini stella tini che mi ha scritto partecipo e condivido il primo premio è bellissimo e io ti adoro ah ti piace il primo premio e infatti il primo premio è tuo la sorta ha voluto io questo qui arrivi a casa tua forse l'ho già detto in un altro video non mi ricordo comunque non posso mandare questa scatola tutta intera le istruzioni stanno scappando non posso mandare è tutta la scatola intera e la devo aprire e devo fare un pacchetto per la posta quindi ti arriverà praticamente un pacchetto tipo rettangolare un parallelepipedo con tutto quanto quello che c'è qua dentro quindi ovviamente io prendo tutto e metto dentro questo pacchetto ok stella complimenti e scrivimi il tuo indirizzo alla mia mail che troverai nell'info box ok ora procediamo secondo vincitore io devo schiacciare sempre qua ok vado the winner is aspetta aspetta arrivato un maschietto e un ragazzo roberto solo che mi scrive partecipo roberto che partecipi hai fatto bene a partecipare e ti arriverà questa scatola così come la vedi quindi ti posso mandare la scatola intera quindi roberto solo sei il secondo vincitore anche tu scrivimi e sia stella che roberto hanno tempo fino a sette giorni per contattarmi se vedrò che non arrivano le mail dei due vincitori dei due estratti rifarò la l'estrazione ok ragazzi spero che i regali vi piacciono scrivetemi mandatemi una foto magari quando li riceverete se vi va e un'altra cosa che volevo dire vabbè comunque tutti gli altri non è un gioco quindi non io non ne ho mai vinti praticamente ne ho vinti quest'anno due all'improvviso ma non ho mai vinto giveaway l'importante è partecipare perché se non partecipate non c'è neanche quella possibilità di vincere adesso vi saluto perché volevo fare un video molto breve e vi lascio un'anteprima del prossimo video perché secondo me vi piacerà un sacco soprattutto se amate gli elastici un bacio ciao